voci.fm, il sito delle voci. Avete mai sognato di essere un supereroe? E se sì, quale potere vorreste avere? E lo usereste per combattere i malvagi? Oppure per compiere azioni malvagie? È il tema portante del film di cui parleremo oggi. Signore e signori, Shazam! Nato nel 1939 dalla società Fawcett Comics e in seguito acquisito dalla più famosa DC Comics, casa di Superman e Batman, il personaggio di Capitan Marvel, poi rinominato Shazam, diventa una figura particolare nel mondo dei comics. Un ragazzino di 14 anni di nome Billy Batson che, tramite un mago, acquisisce i poteri delle leggende greche e diventa un supereroe muscoloso e quasi invulnerabile. Ma nella testa rimane un adolescente ed è proprio questo nel film che l'attore protagonista Zachary Levy riesce a riportare al pubblico. Shazam, il settimo film ambientato nel DC Extended Universe, è una commedia frizzante e divertente, ma anche un film d'avventura con momenti mistici ed avvincenti. Dopo Superman, Batman, Wonder Woman e Aquaman nasce un nuovo eroe, ma Billy scoprirà presto che tutti i poteri del mondo non bastano se non si usano con responsabilità. Nell'edizione italiana il direttore di doppiaggio Carlo Cosolo ci dona una novità nel mondo delle voci. Sceglie Maurizio Merluzzo, famoso doppiatore youtuber milanese, a dare voce al supereroe protagonista. L'accoppiata si rivela vincente e Merluzzo riesce a donare simpatia, umanità e profondità al personaggio, riuscendo a seguire in tutte le sue sfumature le espressioni facciali del bravissimo Zachary Levy. Completano il cast Riccardo Suarez nel ruolo di Billy Batson, Massimo D'Ambrosis in quello dell'antagonista Dottor Silvana, Pierluigi Astore, voce del mago Shazam e Lorenzo D'Agata, che doppia il fratellastro a spalla di Billy, Freddy Freeman. E Zachary Levy? Cosa ne pensa del suo doppiatore? Ecco un estratto dove corpo e voce si incontrano. Continueremo ancora a parlare di cinema, serie tv e soprattutto di doppiaggio sempre qui sul blog di Voci.fm, il sito delle voci. Un saluto da Alessandro Delfino. Voci.fm, il sito delle voci. Grazie.